Quindi staccate il segnale interno di collegarci, grazie. Premio Milo, Ippica Nazionale, concorso 589, macchina che stacca, dall'esterno prova subito il comando Ombra Jack, l'errore del numero 4, Odone. Viene squalificato Odone, ha anche Ombra Jack, gambe all'aria, di galoppo e stessa sorte, così un vantaggio Ndumukam. Anche Orbita Jeep finisce sul tabellone degli squalificati, andatura decisamente sostenuta, quella impostata da Ndumukam che precede Ostinato Dippo in terza posizione.